Domenica 23 abbiamo organizzato la sagra dei prodotti tipici di Piana degli Albanesi. Il pane, che è un prodotto di eccellenza della nostra comunità, con i dolci e con il buon vino che si fa dalle nostre parti. Quindi abbiamo creato questo evento Via Col Gusto, in Arbreche, nella nostra lingua viene detta Zunfich Engiepsium, e quindi abbiamo il piacere di ospitarvi nella nostra bellissima cornice della piazza principale. Un momento culinario molto particolare perché daremo via alla sagra dei prodotti tipici con la degustazione gratuita del pane locale con l'olio, dello sfincione fatto sempre dai nostri maestri pasticceri, e poi alla fine non può mancare il nostro classico cannolo di Piana degli Albanesi. E poi con la bevuta di qualche vino tipico delle nostre parti. Il tutto è di attrazione per l'inaugurazione del presepe vivente di Piana degli Albanesi. Un'occasione unica nel panorama delle offerte che ci sono di presepi di questi tempi, non perché io sia di parte, ma perché la location dove si rivolge il presepe vivente di Piana degli Albanesi è una location unica. Parliamo delle case che ultimamente sono quasi tutte abbandonate, che sono sorte in prossimità sotto la montagna, zona Scesi, zona alta di Piana, e quindi è una location naturale. Non c'è nulla di costruito, non c'è nulla di cartapesta, ma location naturali, sia interne che esterne, vie e viuzze di un tempo. Quindi è qualcosa di molto particolare, per questo ho il piacere di invitarvi sia al momento più grazioso della sagra, ma anche al momento molto importante del nostro presepe vivente di Piana degli Albanesi. A che ora sarà l'inaugurazione del presepe? L'inaugurazione del presepe è il pomeriggio dalle 17 in poi. I momenti della sagra hanno due appuntamenti, un momento mattutino alle 11 di mattina all'apertura della sagra, un secondo momento di pomeriggio dopo le 16, e dopo aver rassaggiato i prodotti tipici, poi tutti insieme andremo a fare il giro per il presepe vivente. Non c'è solo il presepe, quindi anche a questo tengo a sottolinearlo, perché è stato creato un magico villaggio di Natale e i mercatini di Natale. Quindi è un percorso che prevede la possibilità di visitare il presepe vivente, ma poi di visitare anche queste altre attrattive, il tutto in una cornice di Piana degli Albanesi, vicinissima da Palermo. Siamo solo a 20 km da Palermo e quindi vi aspettiamo con molto piacere.